L'Europa è un concetto culturale, non di certo quello che abbiamo ereditato e in cui viviamo. Rinnegare e disconoscere le nostre comuni radici cristiane è come rinnegare se stessi, un vero e proprio suicidio, un disconoscimento, è una sfida insolente e una detestabile ribellione verso Dio, che come risultato costruisce e costituisce una società disumana, deprimente e ingiusta. Tuttavia, essendo questo già anzitempo profetizzato, non ci stupisce affatto e non ci meravigliamo dell'apostasia che è in atto anche nelle chiese, ma attendiamo fiduciosi il ritorno di Gesù Cristo in gloria per instaurare il suo regno eterno che non avrà mai fine. Vieni presto Signore Gesù.